Ciao ragazzi, io sono Luca e questo è Dream Corner, lo show in cui ogni settimana parliamo di come preparare, migliorare e servire i nostri drink. Oggi, margarita. Oggi prepareremo il margarita. Il margarita è un drink che va servito in una coppetta margarita o sombrero, circa 33 cl. Se non avete un bicchiere con questa forma, uno con la stessa capienza, andrà bene lo stesso. Ora raffreddiamola con qualche cubetto di ghiaccio. E un po' d'acqua. Riponiamola in modo tale che non ci dia fastidio. La tecnica che utilizzeremo per prepararlo è quella dello Shake & Strain, la stessa che abbiamo utilizzato per il Bahamama. Quindi avremo bisogno di un bostol e un i-wall. L'occorrente per prepararlo è il seguente. Tequila, triple sec, succo di lime e per decorarlo sale e spicchi di lime. Così, come prevede la tecnica dello Shake & Strain, riempiamo di ghiaccio il nostro eyeball fino all'orlo. In questo modo. Fatto questo, versiamo al suo interno gli ingredienti. Partiremo dalla tequila, che verseremo in una quantità di un onzo e un quarto. Quindi un bubble five, in questo modo. Bubble, two, three, four, five. Seguirà il triple sec, che andremo a versare una quantità di tre quarti d'onzo, quindi un bubble three, in questo modo. Bubble, two, three. Dopodiché aggiungeremo un' onza di succo di lime. Cuideremo il tutto con il nostro bostol e shakereremo energicamente per all'incirca 10-15 secondi. Fatto questo, apriamo il nostro bostol in questa maniera. Riprendiamo la coppetta margherita e la preghiamo dell'acqua che c'è all'interno. Dopodiché, prendiamo sale e uno spicchio di lime per andare a preparare la nostra crusta. bagneremo il bordo del bicchiere con lo spicchio di lime. E una volta fatto questo, appoggiamo il bordo del bicchiere sul sale, in modo tale che il sale aderisca al bordo stesso. In questo modo. Una volta che la nostra crusta è pronta prendiamo il sale e riprendiamo il nostro bostol e stando attenti a non far cadere i cubetti di ghiaccio versiamo il drink all'interno della coppetta margherita. in questo modo. Perfetto! Il nostro margherita è pronto. Questo conclude la puntata di oggi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Ricordati anche di partecipare al nostro giveaway organizzato in collaborazione con gli amici di NonSoloFlair.it nel quale potrai vincere un kit da barma proprio come il nostro. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al nostro canale e ricordati di seguirci su Facebook, Twitter oppure sul nostro sito ufficiale drinkcorner.it Se ti servisse qualcosa per preparare i tuoi drink vai su NonSoloFlair.it e utilizzando il codice promozionale DRINKORNER otterrai un 10% di sconto su tutti i tuoi acquisti. Io sono Luca e questo è DRINKORNER ci rivediamo giovedì alle 18.00 Grazie a tutti i tuoi